Ciao a tutti benvenuti o bentornati sul canale io sono Stefania qui parliamo di profumi se vi piace questo tipo di contenuto e volete aiutarmi basta solo che vi iscriviate al canale mi trovate attiva anche su instagram sotto il nome di lovefersmell23 oggi parliamo di profumi alla pera perché il sondaggio l'ha vinto appunto questa notta però sappiate che farò anche l'altro dei profumi appunto femminili per mega persistenti perché nessuno verrà lasciato diciamo scontento accontenterò tutti quanti tutte quante iniziamo subito oggi vi dico che cercherò di essere un pochino più veloce nel descrivervi le fragranze perché per me era veramente impossibile sceglierne solo tre la pera è una nota che io apprezzo particolarmente dunque ho molti profumi che la contengono perché proprio qualcosa che io vado a ricercare sarò un pochino più veloce ecco il primo profumo che colgo l'occasione appunto di presentare è questo lo cercavo da tre settimane a questa parte ovvero karma di tesori d'oriente io tre settimane fa ho scoperto dell'esistenza di questo piccolo profumino grazie al canale di mauro e profumi ciao mauro che è un ragazzo carinissimo che seguo con affetto perché ha questo modo così gentile così pacato cioè vi infonde veramente tranquillità in ogni modo vi lascio i riferimenti al suo canale qui sotto questo bellissimo cioè 3 euro e 99 di fragranza e apre con teoria secondo loro note di bergamotto e di limone sinceramente io non le sento più di tanto perché fin da principio e da primo spruzzo andiamo alla spruzzare per l'appunto veramente è carinissimo mi è andato anche negli occhi nel frattempo da primo spruzzo sentite quello che è il potere e l'effluvio della frangipane e è proprio un frangipane a tutto tondo però non è da solo perché si sente per l'appunto quello che è il sentore del fiore dell'albero di pero e loro parlano di peranashi si sente proprio il profumo sembra una marmellata di pera mescolata con quello che è il profumo del frangipane questo è un profumo molto piacione sono stati veramente furbi perché è uno di quei profumi che spruzzate e vi piace subito è unisex è molto cremoso ricorda infatti soprattutto nel dry down quella che è una lozione corpo una lozione solare quella che vi mettete a per l'appunto per prendere il sole in spiaggia è buonissimo è stupendo ma proprio stupendo la base è muschiata e legnosa costa 3 euro 99 io l'ho trovato dal tulipano ma lo vendono anche da tigota e acqua e sapone cioè da noi è arrivato nel padovano dopo tre settimane rispetto agli altri meglio tardi che mai buonissimo provatelo e fatemi sapere la seconda fragranza che ha la nota di pera che io adoro è stupenda è questa ocean di gioia questo è un profumino ragazzi c'è veramente questo al suo interno pera agrumi notte di sale gelsomino mughetto rosa muschio sandalo in base questo è un profumo squillante è un profumo rinfrescante è dolce è rassicurante è una fragranza veramente succosa e fresca come la pera che è la nota di apertura che va a darmi il via al profumo è una pera questa croccantina è sbarazzina è una pera fresca è un profumo estremamente acquatico infatti sappiamo che ci sono queste note salate vi sembrerà proprio di essere il rival all'oceano e di assaporare quella che è la brezza marina ma è una brezza marina fruttata accompagnata sempre comunque da quello che è il sentore forte della pera e è una pera anche accompagnata da note floreali si sente la rosa ma anche se diciamo non è una rosa preponderante di quelle opulente è veramente una rosa anche questa di quelle che sbocciano la mattina leggera è un profumo acquatico che dà benessere che dà sollievo bellissimo questa è la seconda fragranza la terza fragranza di questa si parla un pochino meno la vedo diciamo recensita poco o nulla sinceramente questo è un profumo di the seven virtues si chiama lotus and pear questo è un profumo che io amo particolarmente perché è uno di quei profumi che considero estremamente facile questo apre con note di pera e di pesca devo essere onesta io la pesca non riesco proprio ad andarla insomma a sentire non la sento perché veramente non la sento è poi nel cuore questo composto da fiori di loto da gardenia da gelsomino e da rosa nella base abbiamo il geranio questo è un bel profumo fruttato e floreale la pera dell'apertura è una pera quasi direi verde non è una pera matura non è una pera di quelle succose belle polpose belle dense no qui abbiamo anche poi sopraggiungere di quello che è il profumo del fiore di loto che lo rende estremamente acquatico questa è una fragranza quasi skin scent è una fragranza per esempio perfetta per l'ufficio perché non è una di quelle fragranze forti semplicissima da portare tutti i giorni è un unisex perfetto questo è un profumo anche estremamente pulito se vi piace quella categoria lui ci rientra dentro perfettamente questo è l'auto spare di the seven virtues passiamo poi a quella che ragazzi è in assoluto la mia pera preferita cioè questo il mio profumo alla pera preferito su tutti ed è di acqua allegoria di gerlaine e si chiama pera granita questo è uno di quei profumi che appena lo spruzzo mi dico che buono che sei cioè veramente che buono che sei sembra una granatina di pera e di pompelmo perché questo in apertura note di pompelmo di limone di bergamotto poi abbiamo nel cuore proprio della fragranza la pera il fiore d'arancio lo smanto le dione in base abbiamo il muschio il legno di cedro questo è succosissimo è fruttatissimo e ha un'apertura così croccante così fresca così è grumata perché appena spruzzato la prima nota che sentite non è la pera bensì il pompelmo deve piacervi la nota del pompelmo che è una nota che io adoro soprattutto in questa stagione perché è estremamente energizzante rinfrescante è uno di quei profumi che ti fa sentire vivo ti dà brio ti dà proprio la gioia e poi arriva in pompa magna anche la pera perché il profumo si scalda diventa via via più dolce e sentite la pera questa è una pera al pompelmo immaginatevi proprio di essere in spiaggia una bella granita fatta di pera e pompelmo le note aggrumate sono qui a braccetto durante tutta l'evoluzione del profumo alla pera perché oltre al pompelmo sentite anche il bergamotto ed il limone è una vera goduria questa è fonte di energia briosa è un profumo stupendo pera granita di gerlen sto andando velocissima perché essendo tanti preferisco insomma essere un pochino più veloce rispetto al solito poi abbiamo un altro profumo questo io lo chiamo montal non montal questo è white pears perché dico così perché questo è decisamente uno dei montal più atipici che io possiedo in collezione perché non è uno di quelli troppo strong che sono bombazze pieno di rosa pieno di hood questa è tutta altra cosa qui abbiamo un profumo che va proprio per la sua strada è fruttato è muschiato è vanigliato ed è estremamente talcato non prendete paura perché appena lo spruzzate la pera che mi costituisce questo profumo è molto sintetica è una pera molto chimica qui a differenza degli altri profumi appunto appena raccontati è una pera polposa succosa quasi matura molto dolce molto densa è accompagnata dalla vaniglia via via questa pera si trasforma e viene inglobata dal muschio sentirete proprio il profumo del muschio che è fortissimo e che mi ingloba tutta questa pera comunque il sentore della pera rimane assolutamente presentissimo perché è muschio accompagnato alla pera poi si assesta e nel dry down diventa un talco alla pera e al muschio e è un profumo molto ricco questo è un profumo che dura abbastanza come ovviamente tutti i montal ecco del montal tipico a questo e lo vedo benissimo su un uomo altrettanto bene su una donna questo è un profumo proprio in cui la natura della pera è quella di una pera matura e accompagnata da muschio soprattutto da muschio e da tanta vaniglia è un profumo assolutamente stupendo immaginatevi proprio un talco al muschio e pera questo è montal white pears anche questo perfetto per questo periodo l'ultimo che forse è uno di quelli più conosciuti in assoluto e forse penso senza forse credo sia il best seller di joe malone è per l'appunto english pear and fresia io ho questa confezione piccolina piccolina perché faceva parte di un kit che mi ha regalato mia sorella per natale che era composto anche da crema corpo squisita e da bagno schiuma sempre appunto con questa stessa fragranza questa è un'altra pera diversa ancora perché si differenzia dalle altre nel senso che io qui ci sento tantissimo l'unione della pera con il paciuli vi dirò non sono una grandissima amante della nota del paciuli ma in questo caso accompagnato con la pera sta benissimo anche perché non è solo accompagnato dalla pera ma c'è anche la rosa qui dentro la combo rosa e paciuli in profumeria è usata spessissimo vi sembrerà di primo occhito di non sentire la rosa ma abbiate pazienza perché quando si assesta la sentirete tutta quanta anche questa è una pera verde non è una pera matura è una pera croccante ricorda anche in un certo punto dell'evoluzione di questo profumo è quello che è il sentore della buccia di determinati agrumi non sono riportati in piramide però probabilmente i giochi di accordi fra le varie note che lo compongono a me fanno venire in mente la buccia di un agrume non so definire quale ma si sente proprio quella che è quello che è il profumo della scorza di può essere un'arancia di un limone no mandarino no mandarino anche qui grazie a io non lo sento e questo è un profumo carinissimo molto pulito ha una pecca nel senso che è poco persistente direi che è quasi evanescente almeno su di me la persistenza è scarsissima va bene che i john malone sono fatti per essere reierati però non è neanche tanto vero perché io ne ho tantissimi perché è un brand che adoro e alcuni mi fanno un lavoro perfetto nel senso che ci stanno tranquillamente cinque ore su pelle questo mi dura da siena una mezz'oretta questa è l'unica pecca che ha questo profumo lui è la mia ultima proposta del giorno scusate se ho parlato tanto e velocemente ma questa volta erano più del solito perché di solito ve ne presento tre io spero di avervi fatto compagnia e sono qui che aspetto un super ordine che ho fatto e spero mi arrivi il prima possibile perché ho preso delle cose veramente succulente ci vediamo presto un bacio grande ciao